La partecipazione, questo incontro è stato organizzato dal laboratorio politico sale della terra in prototipazione anche con la situazione libera e con l'aiuto sostanziale della struttura che ci ospita. Per la verità sono un po' emozionato questa mattina perché non solo c'è il... Non solo ho la fortuna di stare accanto al procuratore della Repubblica di Lucena, il dottor Seggia. E poi l'amico ormai che ci segue da un po' di tempo, il dottor Giuseppe Capogallo. Ma vi devo confessare che... Mi si sente? Non ti sento. In fondo non ti sento, vi dicono. In fondo non ti sento, vi dicono. In fondo non ti sento, vi dicono. Grazie. Grazie.